Presto, presto, dai! Dai, dai! Dai, dai! Siamo ancora in tempo. Siete disposti ad amarvi e rispettarvi l'un l'altro per tutta la vita nel santo matrimonio? Giorgio Baldini, vuoi prendere Evelina Mariani come tua sposa? E prometti di essere fedele in ogni circostanza, felice o avversa, nella buona... Io vado! No! Lascia stare! Ma che dici? Sei percetto! No, 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 basta, basta con gli imbrogli, gli inganni! Se, se Evelina si vuole sposare io, io non mi oppongo. No, ormai ho perso e lo riconosco. Sì. Evelina Mariani, vuoi prendere Giorgio Baldini come tuo sposo e prometti di esservi fedeli in ogni circostanza, felice o avversa, nella buona o nella cattiva salute di amarlo e rispettarlo per tutta la vita? No, no! Evelina! Achille! Achille! Evelina Mariani, av selections minti? Grazie a tutti. 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 Di te. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Di te.